Cosa succederà durante questi giorni, professore, con il suo laboratorio? Cercheremo di fare dei lavori con i bambini che sono, io direi, la punta avanzata di ogni iniziativa che voglia prontare al futuro. Difatti loro sono proiettati sul futuro. Quindi stimolarli, lasciare a loro la possibilità di spaziare con la fantasia, con le cose minime anche, con le cose povere, poverissime, un pezzo di carta, una matita, una penna, un po' di colore. Si possono fare cose straordinarie, come abbiamo dimostrato sempre. Quindi tenteremo di dare un aiuto a questa grossa iniziativa che è legata al recupero dell'ambiente. Quindi siamo in linea con questa iniziativa. Posso solo citare le cose che facciano gli anni 70 e i bambini di strada. Faccio lezioni in mezzo alla strada con i bambini e con gli studenti. Alcuni bambini più diseretati erano quelli che in fondo, i più diseretati, i più isolati. Alla fine poi facevano una cosa eccezionale che adesso stanno nel museo di Henriat vicino a Parigi. E poi da grandi, riconoscendomi, mi hanno detto male. Posso solo dire sì sì, allora ha detto lo sa che noi ci siamo tutti salvati. Quelli che hanno recuperato in sé quel po' di fiducia che viene attraverso la creatività libera. Poi non è che si pensava che il più bravo di loro, quello che era il più desiderato, poi dovesse fare il percorso universitario. Invece era assolutamente impossibile perché occorrono delle condizioni di partenza. Però hanno saputo e potuto svincolarsi dalle morse della povertà, dell'abbandono che genera anche disfunzioni morali, sociali eccetera. E quindi lavoriamo in questo senso anche a Scampia. Adesso cerchiamo di fare il museo dei bambini a Scampia. E quindi cerchiamo di recuperare anche noi un po' di aiuto per poterlo fare. Perché adesso sono un po' tutto orientato a lavorare anche nelle carceri, in alcune carceri, siamo in Isida con i giovani. Anche lì si nota che si riprendono molto con la creatività. Facciamo delle cose in ceramica che hanno appassionato un po' tutti quanti. abbiamo fatto una mostra in un bel negozio di Napoli, hanno venduto tutto. Sono i due che hanno avuto la libera uscita per un po' di tempo, eccetera. O a Bollate anche, vicino a Milano, mi hanno chiesto. Stiamo facendo delle cose interessanti con il legno. Lì c'è un laboratorio del legno. E quindi adesso io sto facendo le cose... Insomma c'è una mia strategia perché utilizzo un po' tutte le forze che ho messo in moto negli anni. E quindi i disegni dei bambini io li traduco in modelli di metallo con gli studenti, con gli artigiani. Io ho parecchi artigiani che lavorano con me, che anche loro hanno potuto sopravvivere per questo lavoro creativo. Io mi sbaglio, dico certe volte creatino, o no? Ma è una strada importante, una strada che a vari risvolti può ampliarsi ancora di più. Certo, sulla scia delle cose fatte. Adesso si parla di arteterapia, la terapia anche sociale, insomma, non soltanto che riguarda lo stato di salute delle persone, dei giovani. Quindi l'arte può fare parecchio, più di quello che non si pensa. Non è solo una cosa che si fruisce come la pura bellezza, ma come qualcosa che può incidere a livello umano, economico, sociale. Va bene, ho detto. No, no, io volevo chiedere invece, volevo ringraziarla per tutto quello che sta facendo con i bambini, con la sua attività, eccetera. Ricordando pure ai nostri telespettatori che lei ha donato pure delle opere molto belle per il progetto Pest'Umanità. Lei è stato sempre vicino alle gambiende, al suo progetto. Anche queste compostiere che vediamo qui dietro nascono un po' dall'idea che lei descriveva prima, di un oggetto d'uso che non necessariamente deve essere fatto in modo brutto, dico io. Può avere pure una sua bellezza estetica. Lei è molto addenta a questa cosa, perché lei è famosissima per i suoi oggetti design che sono stati oltretutto premiati, ultimamente è stato in Cina, ho avuto pure un premio importante. Quindi, diciamo, la creatività serve non solo ad avere questi rapporti sociali con le comunità, eccetera, ma serve anche a sviluppare oggetti più dignitosi. Sì, sì. Ma l'idea è quella di incidere sull'immaginazione. Per esempio le compostiere, se una cosa è fare la compostiere che sia perfettamente funzionale, eccetera, l'altra cosa è la compostiere che si può fare in tanti modi. E quindi anche, non solo, ma a vederle uno dice, ma che cos'è, sono cose, adesso una curiosità, e voglia, e voglia, sono anche sculture, insomma, e anche uno ha voglia di mettersele nel giardino, mettersele, insomma, nel proprio orto, oppure, insomma, apre ad altre prospettive. Non è, la realtà non è chiusa in settori. La compostiere è una cosa, le cose d'arte sono altre cose. No, sono cose che, o così, l'arte è una cosa, la salute è un'altra. La medicina si può avvalere delle cose, infatti, ci sono molti spunti. Ci sono anche degli esperimenti, un po' su delle sculture che abbiano un valore di stimolazione diretta sul fruitore. Per esempio, all'ospedale a Napoli, dei bambini, abbiamo messo un sacco di sculture, allora i bambini si sono appassionati, vanno là, non sentono di stare in un ambiente. Non si sono spaventati. Non si sono spaventati all'ambiente, ma io sì, e poi qualche lavoro lo si fanno. Anche i bambini vanno, soprattutto i bambini un po' obesi, dovuti a queste cose qua, oppure che abbiano certi difetti naturali, insomma, vabbè, non voglio entrare in dettaglio. Noi abbiamo introdotto all'interno della festa anche un percorso d'arte, appunto. Abbiamo fatto un percorso dell'entrato con una serie di artisti che ci hanno gratificato la loro opera, adesso stanno lavorando giù all'osi, proprio per fare un'operazione che coinvolga, quando più è possibile, i cittadini. L'arte non è una cosa distante dalla vita, diciamo. Nel solco della cultura italiana, millenaria, c'è sempre un filo conduttore tra l'artista, l'artigiano, il cittadino, eccetera. Forse negli ultimi anni si è rotto un po' questo equilibrio, però ricomporlo sarebbe utile anche per, in prospettiva, creare pure lavoro, no? Cioè che si può fare non solo socialità, ma si può creare anche economia. Certo, certo. Difatti il lavoro che faccio io, insomma, è anche un'economia, magari una microeconomia. Io spendo tutto quello che ho per fare cose. Per cui è venuto uno straniero, è venuto allo studio e ha detto, sembra uno studio, lavoro 100 artisti. io sono uno, però gli altri 100 ci sono. Accompagnato da un sacco di artigiani. Sono i collaboratori, sono le cose belle. E quindi cerchiamo di fare quel pochino che riusciamo a fare.